Intro Benvenuti in questo nuovo video signori bentornati Oggi si sono vivo, tutto a posto, sono successi un po' di cose Questi giorni non sono usciti i video principalmente perchè ero con la mia ragazza e volevo passare il tempo con lei Non avevo tantissimo da dirvi e soprattutto ho preparato tutte le cose per la maratona estendibile che è avvenuta la scorsa domenica Vi ringrazio davvero tantissimo per il supporto e maratona siete stati magnifici Se volete seguirmi sul sito viola link in descrizione Signori signori del resto purtroppo non c'è tanto da dire Sono stato assente ma gli sviluppatori nell'ultimo mese si sono davvero poco sforzati di pubblicare anche soltanto un tweet interessante riguardante lo sviluppo della 1.17 Zero indizi, zero notizie, zero semplicemente chiacchiere informative su novità da aggiungere ancora Davvero mi ha sconvolto la cosa anche perchè in questi giorni mi aspettavo che comunque la mia assenza portasse ad un minimo incremento di contenuti Che in realtà non sono assolutamente avvenuti, non è uscito assolutamente niente Quindi non so dirvi nulla per lo snapshot 21v15a eventuali di domani Rimanendo alla mia precedente teoria ripeto che il mese di aprile secondo me sarà molto conveniente Sarà un mese molto interessante Abbiamo visto settimana scorsa lo snapshot, il primo snapshot di aprile con delle novità pazzesche Sto parlando della possibilità di fortunare se così si può dire i minerali di copper, iron e gold E averli anche sotto un'altra forma che sotto sotto non ci dispiace Questa era una novità inaspettata, non pensavamo potessero aggiungerla, lo hanno fatto Ma la vera domanda è che cosa uscirà per il prossimo snapshot? Avremo una novità conosciuta o una novità comunque innovativa come quest'ultima viene appunto? All'appello sappiamo tutti bene che mancano biomi, archeologia e montagne ovviamente in grande scala Lo sviluppo della 1.17 fino adesso ci fa escludere quasi al 100% la presenza di montagne Per quanto siano già esistenti e pronte sulla versione Bedrock Edition Il contrario possiamo dirlo con i biomi che tra una novità e l'altra rimangono sempre la cosa più grande Che effettivamente manca da aggiungere a delle caverne che a dire il vero sembrerebbero essere soddisfacenti Per quanto nell'ultimo snapshot, considerazione importante, non ci siano state differenziazioni particolari alle caverne Sono rimaste quelle del 21v13a Il che è molto interessante perché significa che siamo al punto finale in un certo senso Se la 1.16 dovesse davvero uscire all'estate diciamo nei primi giorni d'estate forse forse Quindi sto parlando dal 21, il 21 mi sembra però In ogni caso dopo il 20 giugno se dovesse uscire la 1.17 in quei giorni lì sicuramente ora è il momento di mettere il gas E con gas intendo signori i biomi perché davvero per lo sviluppo delle caverne mancano loro delle chicche segrete Che giustamente ancora non conosciamo Non c'è tanto altro da aggiungere Queste sono le caverne, archeologia e montagne riprendono altri discorsi Le montagne ovviamente il bioma in sé della montagna Un bioma però esterno al mondo delle caverne Mentre l'archeologia giace più vicino, è più a tema con il cave and cliff update Ma si differenzia dal fatto che è una nuova struttura e allo stesso tempo anche skill Per quanto signori l'archeologia è una skill, un'abilità che si può perfezionare all'interno di Minecraft Questo signori ce lo dissero per lo meno tanti tanti mesi fa Per il resto io adesso cercherò di mettermi un attimo in sesto Sistemare il sistemabile perché c'è un po' di confusione qua in giro Voglio provare a sviluppare il mio canale anche in maniera molto interessante e diversa da YouTube Pure sul sito Viola Quindi davvero vi invito a iscrivervi pure lì Perché arriveranno delle belle cose e ve le farò scoprire anche nel corso del tempo Sul canale vedo di mettere a posto quello che c'è da mettere a posto Anche perché comunque lasciarlo inattivo per 5-6 giorni è stato un po' un trauma per me in un certo senso Lo sarà sicuramente anche per il canale sotto alcuni punti di vista Ma proprio per questo voglio approfittarne per mettere a posto tutti i pezzi del puzzle che effettivamente mancavano da un po' Speriamo che però il pezzo del puzzle 15A della 1.17 sia presente e che domani ci faccia divertire con un bello snapshot Che significa che uscirà il video sicuramente e subito dopo andremo in live su sito Viola a vederlo anche insieme Quindi signori sicuro interessate Scusate se in questo video speculazione ho parlato anche un po' di me ma non vi so dire nient'altro Secondo me uscirà per la solita teoria che vi ho pronunciato prima e detto in altri video E voglio sentire però la vostra opinione nei commenti Se sapete qualcosa di più tanto meglio cercare di aggiornarmi al massimo per realizzare questo video Per quanto ripeto non sono stato attivo e interessato alla cosa negli ultimi giorni Quindi signori grazie mille per l'attenzione da Endernico è tutto alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi